salve a tutti abbiamo qui i volantini del supermercato per fare la differenza capire qual è la differenza fra se compriamo supermercato o se produciamo direttamente noi farina di grano tenero tipo zero terra di resilienza amici nostri olio extravergine di oliva 100% italiano cilentano doc di carbonato di sodio è sempre utile averne un po un pizzichetto di sale e un po di acqua tiepida 1,89 euro il prezzo del prodotto comprato se lo facciamo noi con ingredienti di altissima qualità come vi abbiamo fatto vedere ci aggiriamo intorno ai 60 centesimi una porzione per 4 persone secondo me conviene